Oggi sono tutti ricchi. Chi accetterebbe ancora una vita come la nostra? Testimonianza di Giovanni Toselli, detto Janine Dariund, nato a Peveragno, classe 1887, contadino, muratore. Nel 1900 metà della gente di Peveragno era in Francia o in America. Ne partivano tanti per l'America. Partivano per arrivare là a Natale a fare ancora la Cuseccia, ossia la campagna del grano, con la vettura fino a Bainette e poi in treno a Genova dove si imbarcavano. Ragazze disposte a sposarsi, disposte ad andare in America. Oh, ne trovavano di ragazze. Allora si andava facilmente in America. Qui non c'era lavoro, c'era miseria. Noi eravamo cinque figli, tre maschi e due femmine. Mio padre affittava poca terra, aveva una vacca, faceva il contadino e il calzolaio. Mio fratello più vecchio, Giacomo, del 1879, faceva il calzolaio. L'altro mio fratello, Domenico, del 1881, ha fatto un po' il servitore, poi è scappato in America. Aveva 16 anni. Anche una sorella del 1884 era in America. È ancora là, vedova. Nel 1904 io sono scappato in Francia. Vede come si disperdevano le famiglie? La vita qui era difficile, come noi altri. A scuola ci mandavano poco. Se ne avevano bisogno a casa a fare una fascina, stavamo a casa. Ho fatto la terza a strappi, due o tre mesi d'inverno. Il maestro Teu, il padre di Caterina, mi chiedeva sempre, che cosa vuoi fare da alto? Il predicatore. In quei tempi tanti andavano in seminario a studiare da prete. Un giorno il maestro manda a chiamare mio padre e gli dice, Kin, mandalo a studiare tuo figlio che riesce bene. Ma io non posso. Non preoccuparti, io ti apro la mia borsa. Non è bastato. Sono ancora andato a scuola due mesi, in quarta, e poi via da Vachè. Mi ricordo, io avevo sette anni, facevo seconda elementare. C'era mezzo metro di neve su a Neretta, oltre la Madonna dei Boschi, sulla montagna, e facevo fascine con sette anni sopra la neve. Mio padre e mio zio tagliavano le piante del bosco, mi scapulavo, ossia io pulivo i rami, facevo fascine con un pezzo di polenta e una mela cotta, e andavo a bere l'acqua della neve. Pane d'inverno? Mai. Sempre solo polenta, patate, castagne. Le famiglie vivevano quasi tutte così, da ogni parte. C'erano solo tre o quattro famiglie di peveragno che se la facevano bene. C'era i giacumette, i ciucette, l'egresia. Gli altri tutti basso, tutti basso, ossia tutti con un livello di vita basso. Non si mangiava, non c'era modo di mangiare. Così in paese. la montagna ancora peggio. Non lo vedevano mai il pane, altro che scappare in Francia e in America. C'era chi cavava, ossia lavorava i campi, zappava, tutto con la pala. La terra rendeva quattro quintali di grano per giornata. Adesso ne fanno diciotto. Su due giornate doveva magari vivere una famiglia di dieci figli. La vita era grama. A otto anni ero già a guadagnarmi da mangiare. Dava che? A beinette. Non sono mai andato a mangiare una volta in cucina. Sempre nel cortile con la scodella sulle ginocchia. Lavoravo da gente che non aveva cognizione, gente proprietari mica poveri. Mi davano ancora meno da mangiare che al cane. Avrei mangiato dieci volte. Fosse adesso gente così la metterebbero in galera e farebbero benissimo. Ho patito tanto tanto da vachè. A nove anni mi mandavano a bagnare la meliga da solo fra quelle bialerase, ossia grossi fossi, di notte. Ero un bambino e ne sapevo niente e passavo dei gran spaventi. La paga era 18 lire all'anno. Dopo gli anni da vachè sono diventato muratore. A 17 anni, nel 1904, sono andato a Marsiglia e poi a Tolone, all'avventura, a portare i sacchi da un quintale di soda. Per poter lavorare ho dovuto dare cinque lire di mancia a un poliziotto che ha scritto sulle mie carte che avevo un anno di più. Poi sono ritornato a Peveragno, dove da muratore guadagnavo due lire al giorno. Nel 1906, a Morosso, guadagnavo poi già 4 lire e 15 centesimi al giorno. Una buona paga. Erano già soldi. Le filere, ossia le filandine, guadagnavano 25 soldi e andavano e venivano a piedi da Cuneo. Anch'io andavo sempre a piedi, anche lontano da Peveragno. Dormivo sui fienili dal lunedì al sabato, appendevo il pane a un filo di ferro perché i topi non me lo mangiassero. Poi sono andato con scritto a tirare il numero. Ma prima di presentarmi alla visita medica ho preso 12 cicchetti di grappa e ho mangiato mezzo sigaro. Non avevo voglia di fare il soldato. Il dottor Abrate, come mi ha visto, mi ha detto, ma cosa hai fatto? Niente. Ha capito subito. Io ero bianco come uno straccio, però mi ha fatto abile. Tanti non erano abili, chi per l'asma o per il cuore o per il poco mangiare. Tutto dovuto alle vite grame. Mi hanno mandato negli alpini al battaglione Borgo San Dalmazzo, tredicesima compagnia, capitano Trossarello. Ero già sposato. Mia moglie stava per comprare un figlio e dodici volte ho saltato la barra, ossia sono scappato da Borgo e andavo a casa sempre di notte e rientravo al reparto per la sveglia. Ma il mio primo figlio è nato morto. Poi scoppia la guerra. Che disperazione! Che cosa mi è passato per la testa? Ma nemmeno un soldato era convinto di fare quella guerra. Partivamo tutti malvolentieri. Uno da sposare è tutto diverso. Ha nessuno dietro. Noi avevamo famiglia, dovevamo lasciare il lavoro. Solo qualcuno volontario voleva fare la guerra per fare carriera. Noi siamo andati in guerra per forza. Tanti qui di Peveragno prendevano porcherie per non partire e ne sono morti. Partito il 31 luglio 1915 e tornato nel dicembre del 1918 sono stato nella conca di Plezzo con la brigata Osta. Siamo andati a occupare Plezzo con la fanteria, noi alpini a fare coraggio alla fanteria. Su a Plezzo eravamo su una posizione avanzata che ci prendevano da tutte le parti. Quota 900. Dall'alto ci buttavano giù le pietre. Da una parte sparavano con un cannone a zero e dall'altra ancora con le mitraglie. Non ci arrivava più il mangiare e sono venuto a pesare 35 kg. Anche un certo Salimbeni di Pradles, che pesava 86 kg, è venuto a 36 kg. C'era un certo bosniaco, un volontario, che viveva in una galleria nella roccia da solo e aveva cinque fucili e una mitraglia e chiudeva sempre il passaggio alle nostre corvée dei viveri. Allora il capitano mi ha mandato a prendere quel merlo, mi ha dato 18 uomini, ci siamo tolte le scarpe, ci siamo fasciati i piedi nelle fasce mollettiere, abbiamo montato un trucco e l'abbiamo sorpreso. Era un giovane, aveva per due mesi di viveri e munizioni. Uno l'ha preso per i piedi e l'altro per le braccia. L'abbiamo buttato giù da un burrone. A momenti ammazza il nostro capitano sotto, a momenti gli piomba addosso. Poi è venuta la ritirata. La nostra divisione ha resistito due giorni nella conca di Plezzo. I nostri 149 prolungati sparavano già verso le nostre retrovie, all'indietro. Allora si salvi chi può. Siamo scappati, nella nostra vallata c'erano due metri di morti. Eh, abbiamo vinta quella guerra, ma l'abbiamo perduta. La statistica dice che sono di più i tubercolotici tornati dalla guerra del 15-18 che i morti di quella guerra. Io ho preso il gas, l'iprite, sul montello e come sono tornato a casa dopo il primo giorno di festa ero già malato di polmonite. Ho tribolato due anni e mi è toccato ricominciare da principio a vivere su due giornate e mezza di terra e il resto in affitto perché non trovavo lavoro da muratore, nessuno faceva ancora costruire. Questa casa l'abbiamo costruita io e mia moglie. Abbiamo comprato una vacca da tiro per ammucchiare i materiali, mattoni, ghiaia, legnami. Io e mia moglie andavamo a Boves tutte le notti a ritirare i mattoni. Partivamo alle tre di notte e tornavamo prima che i bambini si svegliassero. È brutto quando mancano i soldi, quando mancano 19 soldi a fare la lira. I debiti fanno paura. Oggi sono tutti ricchi. Chi accetterebbe ancora una vita come la nostra?